Bentornati su MyFootballGersey. Questa che vedete è la prima maglia della Polonia per i mondiali disputati in Qatar nella versione fan, la versione un po' più comoda dedicata ai tifosi. La maglia da calcio Nike Polonia 2022 introduce un design pulito in bianco con loghi rossi e caratterizzati da una grafica sottile su spalle e maniche. Il motivo su spalle e maniche della maglia da casa della Polonia si ispira al nido e alle piume dell'aquila bianca, animale nazionale della Polonia. Realizzata in una vestibilità regolare utilizzando la tecnologia DryFit per mantenerti fresco e comodo. La maglia da casa è rifinita con il logo del marchio e lo stemma della nazionale presente sul petto. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100% ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Cosa ne pensate? A me piace! Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Ha dei bei colori, è una maglia bianca, quindi vabbè non è che uno si può aspettare grandi cose, però questo motivo sulle spalle non è niente male, peraltro la maglia di Lewandowski è una maglia che bisogna avere. Qui in altro vedete il costo che per una maglia fatta così bene è veramente bassissimo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Ciao! 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 Ciao!